C'è ancora posto sul carroccio. La Lega Abruzzo annuncia nuovi ingressi nel partito. Si tratta di amministratori comunali che hanno deciso di cucirsi in petto il mitologico Alberto da Giussano. Tre sono della provincia di Teramo, quattro di quella di Pescara. Il vice di Salvini, il deputato Andrea Crippa, sottolinea che l'obiettivo è combattere lo spopolamento. In Abruzzo non metteremo gli amici degli amici, le parole di Crippa. La Lega in Abruzzo si sta rafforzando. Stiamo includendo tante persone che hanno voglia di dare le loro energie e il loro contributo per un progetto teso a rinnovare il metodo e il modo di fare politica in una terra dove nel passato sono sempre state al centro non la meritocrazia e la capacità, ma spesso il clientelismo e l'amico degli amici. Invece qui in Abruzzo stiamo cercando con tanti sforzi, con tanto sacrificio e con tanta passione di dare una prospettiva e un futuro diverso ai tanti abruzzesi che magari in questo momento si stanno chiedendo se rimanere in Abruzzo o andare da altre parti d'Italia o del mondo. Io credo che l'obiettivo principale della Lega, uno degli obiettivi principali della Lega sui territori, in Consiglio Comunale, nelle amministrazioni, a livello regionale e a livello nazionale, sia di dare una risposta a questi tanti abruzzesi che magari hanno studiato in Abruzzo, hanno potenzialità, hanno talenti che devono esprimere le loro capacità e il loro talento fuori dall'Abruzzo. A far da cornici al raduno della classe dirigente della Lega abruzzese è Silvi Marina. Silvi è stato il primo comune in Abruzzo dove la Lega ha espresso il sindaco. Il carroccio vinse nel comune del Terramano solo poche settimane dopo che la parola Nord sparisse dal nome del partito e quella di oggi è stata l'occasione anche per tracciare un bilancio dei primi due anni di amministrazione leghista. Due anni intensi, importanti, tanto lavoro. Sicuramente stiamo iniziando a far vedere la buona amministrazione che stiamo portando avanti. È ovvio che nella pubblica amministrazione ci serve tempo e noi comunque ce la stiamo mettendo tutta. Sicuramente abbiamo ripreso una situazione deficitaria per quanto riguarda la parte finanziaria dell'ente. Stiamo cercando di portare avanti le tante opere strategiche che sono rimaste incompiute negli anni e siamo convinti veramente che quest'anno sarà l'anno di svolta perché è il terzo anno quello più importante per dimostrare la grande attività dell'amministrazione che due anni fa si è insidata a Silvi.